Siamo in partenza da Via Alfonsina Strada che è appena stata inaugurata qui a Milano, zona Lorenteggio, direzione Londra. Fa già caldissimo ma noi ci ispireremo alla mitica Alfonsina, siamo contentissimi che abbiano intitolato una strada, anche se qua è un po' in periferia, ma bello, ci faremo ispirare da lei e partiremo con la sua forza e con la sua energia, speriamo. Siamo quasi arrivati a Cernobbio però ci siamo fermati a fare qualche foto perché lo spirito del viaggio non è solo mettere giù la testa e macinare i chilometri ma anche soprattutto godere il paesaggio e godere del viaggio a se stesso.